E si segnalano incidenti nelle maggiori città italiane, particolarmente grave la situazione a Milano, a Roma, di Torino, ne abbiamo già parlato, e anche al sud, a Palermo, in Sicilia e a Napoli. Grande professionalità delle forze dell'ordine che stanno fronteggiando i manifestanti inferociti, sono più o meno 500.000 gli arresti effettuati finora. Grazie.